Cosa ne pensate della poca concorrenza a disposizione di Ria? Becchi è in faida, Trisha a regola serve solo per Becchi Zoe collegata con questi due, non c'è concorrenza per Ria Eh sì, Aluc, il problema è che Ria non doveva diventare campionessa se, attenzione, se non avevano nulla da darle in mano non doveva avere quel titolo alla vita perché noi aziendalisti credo all'unisono non so se qualcuno la pensava diversamente comunque non l'abbiamo mai percepita come campionessa mai perché non hanno creato nulla per una campionessa ha continuato dal secondo dopo sì, si è proclamata, ha fatto un discorsetto però poi subito mammi, dom dom, eccetera eccetera e quindi il problema grosso è questo e continuano, lo stanno reiterando curando anche male ma comunque curando altre faide e nessuna di queste che possa andare a accarezzare pure di striscio, di lontano Ria cioè Ria, se ci pensate, con Becchi non ha nessun legame non ce l'ha con Trish non ce l'ha chiaramente con Zoe con le altre, con chi ce l'ha il legame? c'è un minimo di attrito con Natalia che è durato quanto è durato? Uno sputo anche un segmento backstage un campione che passeggia e arriva uno arriva Randy Orton, ti urta e parte la faia vabbè, ok nemmeno quello c'è un minimo di disturbo un minimo così solo Natalia salita sul ring lì era ancora aveva la faccia di Bagioni diceva eh io ti sfido vabbè sfidami e ti squoscio ok, fine ma Ria ragazzi a che cosa serve come campionessa? dai scherzi a parte e ripeto a me piace tanto l'ingresso a parte che ha una stazza un personaggio quel trucco pesante ricordiamoci che non è quella la sua faccia è bellissima ma non è quella quel trucco quell'atteggiamento gotico bellissimo è fighissima per questo mi dispiace che non le hanno dato un personaggio o qualcosa da raccontare di individuale quindi sì continuare a costruire altre storie aggrava sempre di più il ruolo di campionessa la diria cioè a me sta bene come Mami a me va più che bene togliete il titolo cioè o meglio non dateglielo perché continua a funzionare cioè voi credete che l'attuale approvazione anche meritata di Ria sia frutto della cintura? io no onestamente cioè è frutto della storia che ti sta raccontando con The Judgement Aya e con con Coso con Dominic ma non è merito della cintura una sola cosa scusami Rapsoli poi ti lascio la parola e Linz ti ha risposto anche France Bianca è a SmackDown quindi se ci deve essere una faida tra le due si va comunque in Royal Rumble nel caso Bianca per dire vincesse la Rambola al momento una faida tra le due la vedo la vedo difficile vai Rhapsody sì sì è vero diciamo la composizione del roster è un po' è un po' scarno diciamo perché abbiamo parecchie sono infortunate parecchie sono impegnate in rivalità già preesistenti anche abbastanza lunghette come può essere quella tra gioiettrici da una parte e Becky dall'altra l'unica che ha la diciamo la stazza ma a livello di star power è Becky che se la tengono appunto per i grandi eventi che possa essere SummerSlam o o più in là non lo so il resto invece pare che vedo parecchie parecchie donne che formano dei tag team basti pensare a a Chelsea e Sonia al vabbè le campionesse Liv Morgan penso che Liv Morgan quando tornerà non credo che la riaccoppieranno a Raquel le due chiamate da NXT Katana e Kayden e quindi questo è il problema che già ce ne sono poche alcune fuori per infortunio abbiamo perso il buon Rhapsody ciao mi senti emata che sei mutato sì scusami dicevo che si è bloccato Rhapsody sentivamo di lei di lui che fa oppure che fosse la mia connessione per quello che Rhapsody finisci pure quindi sì dicevo ma c'è solo baghi a livello di nomi grandi dicevo pende tutta dall'altra parte lo Star Power abbiamo Bianca Asuka Charlotte secondo me lanceranno come ho detto prima ma anche io quindi sì diciamo che c'è poca concorrenza e adesso sto aprendo anche la per avere la situazione più chiara per noi e per tutti allora c'è Becky Lynch e c'è Candice la moglie di Gargano Chelsea Green Emma c'è Indy Hartwell che è infortunata poi c'è Katana e Kaden che abbiamo detto sono un tag team Liv Morgan infortunata Natalia già fatto Nicky Cross chi l'ha vista ah c'è anche Piper Neven la la ex duro mai vista c'è Raquel ecco Raquel perché perlomeno come stazza c'è Ronda e Shayna che sono campionesse Sony abbiamo detto Tegan Nox si sta vedendo poco Trish Stratus Xayali addirittura e Zoe Stark ecco sì Becky e Raquel il resto poca roba un po'